Ma chi era Maria Zarba e perché l'hanno uccisa? A queste domande stanno cercando di rispondere in queste ore gli investigatori. Esclusa in un primo momento la rapina, si sta indagando nella sua sfera personale. Maria Zarba, di 66 anni, era una donna molto conosciuta in città per la sua opera costante di volontariato. Era una ministra straordinaria della comunione e portava l'ostia agli ammalati in casa. I parrocchiani hanno appreso la notizia con commozione. Nonostante tanti problemi di salute, non lesinava il suo aiuto in favore dei più deboli. Tutti quelli che la conoscevano la descrivono come una donna buona e che faceva sempre del bene alla prossimo. Aveva quattro figli, due maschi e due femmine, che vivono fuori Ragusa e che in queste ore stanno rientrando in città dopo aver appreso la tragica notizia. È sposata con un tecnico che lavorava al liceo classico Umberto I, ma che non viveva più con lei da tempo. L'uomo, insieme ad altri familiari, è stato ascoltato nella notte dalla PM Giulia Bisello.